buonasera a tutti siamo felici di avere con noi stasera il professor bozzato pedagogista ricercatore esperto in disturbi dell'apprendimento dislessia e distrazia buonasera professore buonasera grazie grazie sì mi presento un pochino sì prego faccia pure dunque professore professore sì perché anche se io di solito mi faccio chiamare dottore perché professore sembra quasi che si dia più importanza e professore perché insegno effettivamente perché io sono un professore incaricato a contratto così pedagogia speciale mi occupo di pedagogia speciale che la pedagogia dell'inclusione qualcuno la chiama la pedagogia della diversità ma noi non piace io la chiamo la pedagogia dell'inclusione ovviamente ho a che fare prevalentemente con la disabilità intellettiva soprattutto i disturbi dello sviluppo o disturbi del neurosviluppo che non sono la stessa cosa ma a volte vengono un po' confuse effettivamente mi occupo di disturbi del neurosviluppo ma in particolare come hai detto giustamente faccio mi concentro sulla dislessia sulla disprassia ma soprattutto sulla dislessia vista dal punto di vista ovviamente del pedagogista quindi mi occupo degli interventi abilitativi del potenziamento ma anche della conoscenza del disordine così com'è infatti io lo chiamo disordine ci tengo a dire che sono un pedagogista cioè quindi il tipo di approccio terapico è ben diverso rispetto a quello di chi fa terapia vera e propria anche dal punto di vista clinico diciamo pedagogista da molto tempo mi sono laureato nel secolo scorso e sono presidente presiedo una delle associazioni nazionali dei pedagogisti che è uniped ci tengo a dirlo non tanto per me quanto per l'associazione uniped che secondo me fra le associazioni è una delle più serie l'ho scelta anche per quello non l'ho fondata quindi ci dica qualcosa di più sul suo approccio dunque io ci provo poi chi frequenterà il corso potrà approfondire meglio io parlo di un approccio secondo metodo di un metodo che fa parte comunque del metodo globale chiamato anche approccio ecologico ecologico nel senso che prende la persona e la sua interezza in pedagogia si parla di educazione diretta educazione indiretta quindi educazione della persona difficilmente usiamo termini come individuo soggetto così parliamo di persona il lessico pedagogico che comunque abbastanza semplice anche da comprendere e da condividere prevede che si parli di persona quindi l'approccio ecologico prevede che si lavora in maniera diretta con la persona ma anche con il contesto e per contesti teniamo le relazioni le relazioni significative anche quelle che apparentemente potrebbero non essere significative e anche alcuni dettagli che potrebbero sembrare non significativi ma che lo sono invece che anche quello che in psicologia viene chiamato il setting che nel nostro caso invece lo chiamiamo come ambiente di intervento del momento comunque area di intervento in senso più esteso dunque io cercherò di introdurre e anche di fare qualcosa di più che un'introduzione cioè cerchiamo anche di entrare proprio nel nel nucleo nel nucleo nel cor proprio della della materia cercherò di parlare della del trattamento secondo il metodo prassico motorio cioè parlato di disprassia per cui la prassomotricità quindi anche la teoria prassico motoria che prevede un intervento globale voleto prima sulla motricità motricità intesa come come funzione che ha a che fare con gli apprendimenti con i coordinamenti e quindi anche con tutto ciò che ha a che vedere proprio con l'apprendimento vero e proprio con la con la morfologia della lettura la morfologia della scrittura la morfologia dell'apprendimento per quello che si sa per adesso non è che nel senso che tu sai che una materia un argomento che in continua evoluzione per il mio primo master lo dico l'ho fatto il mio primo master sui disturbi dell'apprendimento l'ho fatto del 93 per mettere un po in chiaro l'età cambiano come dire ci sono nel 2005 ho fatto secondo master nel quale mi hanno detto che tutto quello che avevo imparato il 93 non andava più bene cioè andava bene nel 93 quando le conoscenze ma nel frattempo dal 93 al 2005 in 12 anni c'è stata una rivoluzione erano stati scoperti i neuroni specchio le neuroscienze hanno diventato la cosa più importante si era capito che non si leggeva con ma si leggeva e niente chissà magari 10 anni quello che facciamo oggi sarà vecchio lo stato attuale è ormai abbastanza condivisa anche questo nuovo approccio a questi disordini richiamo disordini ovviamente sappiamo che non sono patologie no lo so ormai acquisito da tanto tempo ma che si è che è secondo la teoria motoria chiamiamola così che non è niente di nuovo ma ma è nuovo l'approccio a questa teoria ecco questo è è quello a cui siamo arrivati adesso diciamo quindi quali sono come dire le ricerche più più recenti a cui si rifatta questa teoria dunque allora noi abbiamo una serie di ricerche che vanno assolutamente anche localizzate nel senso che siccome ci rifacciamo prevalentemente a tutto ciò che ha a che vedere con la disfrazia e con i dsa in italia soprattutto quello che riguarda i dsa in italia si parla di dsa che sarebbero disturbi specifici dell'apprendimento lo ripeto perché qualche volta non si non è chiaro anche se è chiaro per tutti quelli che ci hanno a che fare che non sono disturbi specifici dell'apprendimento li abbiamo chiamati così ma il problema del dsa non sta nell'apprendimento perché apprende il problema del dsa sta nella funzione esecutiva dell'operatività le ricerche sono quelle ovviamente che vengono da studiosi delle neuroscienze come possono essere chiarenza eccetera a pedagogisti clinici come possono essere crispiani che fra l'altro ecco mi piace ricordarlo perché crispiani ha pubblicato oltre alle sue azioni di intervento che che lo si che lo si seguono lo si segue è comunque un'ottima lettura un ottimo training per chiunque voglia avvicinarsi a questo ha il merito di aver scritto oddio ormai più di dieci anni fa la dislessia come dispressia sequenziale in un momento in cui si cercava un po di capire era uscita da poco la 170 la 170 la legge per il sostegno diciamo dei dei dsa nella scuola era appena uscita la 170 c'era questa questa questo approccio che dava un'ottica diversa rispetto al trattamento ma anche la comprensione della del disordine e poi vabbè poi tutte le ricerche anche legate alla psicobiologia che immagino la conosciate io ricordo ad esempio un interessantissimo testo di laila craigero che una psicobiologa dell'università di ferrara che è sui neuroni specchio proprio dove spiega come la lettura sia legata direttamente alla motricità e all'area motoria poi ovviamente non voglio essere pesante già quando l'intervista però nella la struttura cerebrale da daverniche a brocca che noi conosciamo ci suggeriva già certe cose noi non andiamo così a fondo noi andiamo a fondo invece nella parte operativa nella parte operativa facendo anche delle prove che come dire quella che poi verrà trattata maggiormente nel nel nostro incontro di formazione no ci vuole dire qualcosa di più sui possibili interventi abitativi proprio così qualche accenno sì allora farò qualche accenno dunque dico subito che otto ore l'incontro di formazione sarà di otto ore in otto ore non si può fare tutto ovviamente però si farà abbastanza per poter proseguire anche da soli se no non ha senso quindi ci sarà un'infarinatura e cercherò di essere molto stringato ovviamente ovviamente dopodiché cerchiamo di entrare e in queste otto ore cerchiamo di affrontare tutto quello che ha a che vedere con la materia trattata quindi proprio con gli interventi che io chiamo abilitativi e non riabilitativi perché noi sappiamo la riabilitazione è qualcosa che ha a che fare con il recupero di funzionamento noi proponiamo io propongo invece degli interventi che sono di tipo abilitativo facciamo anche delle prove lì non è che ci mettiamo a fare chissà cosa però un po di prove in modo da poter capire meglio di cosa si parla abilitativo nel senso che nel momento in cui noi andiamo a fare un trattamento educativo noi richiamiamo trattamenti educativi ereditiamo questo 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 modo di dire da 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 dalla montessori che comunque continua a essere per noi un riferimento ma prima c'era italia prima c'era c'è nella teoria nella nella tradizione proprio del trattamento pedagogico di trattamenti educativi che hanno a che fare con l'abilitazione cioè con lo svegliare oppure col mettere in funzione alcune abilità che che sono la dormiente insomma che non ma non sono state spezzate riabilitativo la riabilitazione qualcuno che si rompe una gamba e che deve e che deve fare dei no abilitativi sono abilitativi è lo stesso clinico ma è meno sanitario mettiamolo così se davvero piace molto questo questa terminologia se davvero ha senso fare tutte queste distinzioni ma comunque sì qualche volta è giusto distinguere anche anche per dare un approccio così corretto per dare un approccio ma quindi questo questo corso che faremo insieme il 2 marzo lei a chi lo consiglia per chi è questo corso allora dunque sarà prevalentemente per chi ha intenzione di fare terapia sia per chi già la sta facendo terapia o anche trattamenti abilitativi e quindi potrebbe essere anche il logopedista la logopedista potrebbe essere anche il neuro psicomotricista perché molto spesso io intervengo a fare formazione per la neuro psicomotricità perché molto spesso anche loro hanno a che fare comunque con disprassia con dislessia eccetera logopedista ma anche molto moltissimo per tutta quella parte dei psicologi clinici che hanno deciso di occuparsi di disturbi specifici dell'apprendimento andando al di là della semplice valutazione cioè della semplice valutazione certificazione dice vabbè ma qualcosa si può fare si si può fare anche con un approccio comunque clinico come dire alternativo alla alla riconoscimento di come dire una una condizione di da dover curare non è da dover curare e da abilitare allora generalmente non sono moltissimi gli psicologi che lo fanno ma quando lo fanno psicologi e psicologhe lo fanno molto bene perché riescono a dare quel come dire quel quel cosina in più all'abilitazione che anche l'approccio un po diverso che chiaramente non è necessario però è quel valore aggiunto che può esserci poi oltre a questo volendo è aperto a tutti gli insegnanti di buona volontà che volessero anche perché l'insegnante qualche volta si trova così davanti a questo muro del disturbo specifico l'apprendimento dice ah io non so cosa fare lo do lo mando lo mando gli facciamo fare la certificazione qualcosa si può fare invece non è vero che non si può fare e qualche volta questi corsi partecipano come uditori uditrici perché in prevalenza le mamme anche qualche volta genitori di di bambini dislessi ci può succedere prevalentemente è rivolto a chi opera professionalmente nel trattamento anche per dare un approccio diverso ai trattamenti c'è più educativo e meno tra virgolette sanitario in secondo luogo anche a chi opera nell'insegnamento quindi a chi ha interesse di tipo didattico ma in realtà è aperto anche a chi ne avesse un interesse personale perché 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 di bambini e bambine dislessici dislessiche disprastici in generale ce ne sono tanti ce ne sono anche di più di quelli che ci che ci sono ma questa frase magari la spiego meglio quando ci si vede volentieri volentieri io non vedo l'ora allora che sia il 2 marzo per per poter partecipare al corso e sì mi piace molto tutto questo aspetto del va bene capire chi ha un disturbo del dell'apprendimento ma la cosa fondamentale è poter intervenire poter poter abilitare sono perfettamente d'accordo con con quello che lei ha detto e la ringrazio la ringrazio molto per questa per questa intervista e invito appunto tutte le persone che ci hanno ascoltato a descriversi perché appunto sarà un corso molto molto interessante molto stimolante soprattutto perché c'è come diceva prima questa parte pratica legata al fare che è sempre come dire molto utile molto spendibile e come ha detto lei spendibile anche per diverse professioni in diversi ambiti non lo so se vuole aggiungere qualcosa volentieri vorrei aggiungere bene partecipi anche tu mi fa piacere non lo sapevo non potrei perdermelo allora saluto tutti saluto chi ci ha chi ci ha seguito fino a qua e arrivederci bene grazie mille a presto grazie mille a presto